La Transa Jacques Vabre, o Rue du Café, quindi Rota del Café, è la più mitica e più lunga regata transoceanica in doppio, quindi in due persone di pipaggio. Quest'anno la faremo io e Alberto Bona, insieme, su un class 40. È una regata che vede alla partenza diverse classi, appunto, come appena detto, il class 40, gli Moka 60 e i Trimarani. È una regata che ha sempre la stessa partenza, quindi parte dalle Havre nella Manica e arriva a questa edizione, arriverà a Salvador de Bahia, in Brasile. Si corre ogni due anni, ogni quattro anni si cambia la destinazione, ma sono comunque destinazioni cosiddette del caffè, quindi arrivano in paesi produttori di caffè. La regata appunto ripercorre, al contrario, le antiche rotte dei Clipper che trasportavano il caffè dal Sud America in Europa.